Domenica 21 luglio 2024, sedicesima del tempo ordinario. I pastori buoni e i pastori cattivi. Questo è il tema di oggi. Buona domenica. Continuiamo con le letture profetiche in questa calda estate del 2024. Questa volta è il profeta Geremia che parla, uno dei grandi quattro profeti dell'Antico Testamento. Questa volta è oggetto dell'oracolo, in nome di Dio, cioè di quello che il profeta dice in nome di Dio, dando voce al Signore, è questo. Una cosa molto forte. Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il greggio del mio pascolo. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo, voi avete disperso le mie pecore. Questa volta l'oracolo si scaglia contro quelli che per mandato sono chiamati ad accogliere e accompagnare il popolo di Dio, cioè i sacerdoti, nell'Antico Testamento. Ma può essere applicato ad ogni pastore, ad ogni persona che assume l'incarico, la missione nella sua vita di accudire e di insegnare quello che è il grande insegnamento di Dio, e cioè l'amore. Ecco, questi sacerdoti, nell'accusa di Geremia, hanno pensato più a se stessi che al greggio. Ecco allora, un primo appello che viene fatto al popolo di Dio, al greggio di Dio, di vegliare sui pastori, quando i pastori non vegliano su di loro. Bisogna sempre avere un occhio particolare quando un pastore non si comporta secondo quella che è la legge della fraternità e dell'amore. Ma Dio ancora una volta non abbandona il suo popolo. E cosa susciterà? Susciterà un nuovo pastore, un virgulto, un germoglio giusto che sarà il vero re. Lo farà nella casa di Davide, anticipa il Signore Gesù, il Signore Gesù che nascerà secoli dopo. Ecco, il grande pastore verrà inviato proprio per dare l'ultima parola definitiva di essere il pastore, che non abbandona mai le sue pecore. E il Vangelo ci parla proprio, ci parla della parte finale di quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa, cioè i discepoli mandati a due a due che ritornano e riferiscono a Gesù come sono andate le cose. E lui li chiama in disparte. Ecco allora, ognuno di noi per il battesimo è inviato. Da Gesù ad annunciare l'amore di Dio, ad annunciare la fraternità, come non tutti con la predicazione, la maggior parte di noi con la testimonianza. Ecco, ognuno di noi è pastore del fratello e della sorella, cioè ha una responsabilità verso di lui e verso di lei, delle persone che incontriamo. E di questo ci verrà chiesto conto nell'ultimo giorno. Buona domenica! Grazie a tutti!